Il mondo della Wi-Fi ormai è dimenticato? No, ci siamo diventati un po' assonnati ma ci siamo. Quindi si fanno ancora, visto che sta un banco di riparazione, di lavorazione, cosa portano le persone a riparare? Di tutto, soprattutto le cose vecchie, però devo dire soprattutto gli anziani, i giovani forse non sanno nemmeno di che cosa stiamo parlando da questo punto di vista. Quindi i giovani sono già sul mondo digitale, l'analogico è dimenticato? Assolutamente sì. Ecco, questa è una radio in FM e questa è una radio DAB. Esatto, esatto. La radio tradizionale che oggi va per la maggiore e questo è il futuro della radio, probabilmente della nostra radio. La radio tradizionale che oggi va per la maggiore e questo è il futuro della radio. La radio tradizionale che oggi va per la maggiore e questo è il futuro della radio. La radio tradizionale che oggi va per la maggiore e questo è il futuro della radio.